Buongiorno a tutti da Arpa Piemonte. Torna il maltempo sulla nostra regione nel fine settimana a causa dell'azione congiunta di un nucleo di aria fredda in discesa dalla Scandinavia e di un'area di bassa pressione che dalla penisola iberica si sposta verso l'alto tirreno. Ma entriamo nel dettaglio. Nella giornata di sabato lo stritto canale di alta pressione che ha garantito condizioni di tempo prevalentemente soleggiato nei giorni scorsi inizia a cedere sulla spinta di aria più fresca e umida nel rino del sud ovest. Di conseguenza avremo dei cieli molto nuvolosi con le prime deboli nevicate sparse attese sull'arco alpino tra alpide, pontine e marittime che tenderanno ad intensificarsi ed estendersi a tutto il territorio montano nel corso del pomeriggio ed in serata. Anche la quota delle nevicate, inizialmente attorno ai 1500 metri, si abbasserà progressivamente fino ad attestarsi sui 1100-1200 metri nella notte. Domenica, in un contesto già di tempo moderatamente perturbato, la discesa di un nucleo di aria fredda che dalla Scandinavia transita sulla Francia l'ambendo l'arco alpino nord occidentale determinerà da un lato una moderata intensificazione dei fenomeni e dall'altro un abbassamento delle nevicate fino a quota attorno ai 1000 metri, localmente più in basso sugli 800 metri, in particolare nelle vallate interne delle alpi marittime. Da segnalare che l'intensificazione dei fenomeni sarà aiutata da un flusso sostenuto di correnti orientali negli strati medio-bassi dell'atmosfera, mentre in quota i 20 si manterranno per tutta la durata dell'evento, mediamente moderati, con al più qualche rinforzo forte domenica sulle creste di Alpi Marittime e Cozze. Già nel corso del pomeriggio di domenica, tuttavia, l'allontanamento verso sud-est del nucleo di aria fredda presente sulla Francia favorisce una generale attenuzione delle precipitazioni, che tenderanno ad esaurirsi ovunque nella notte tra domenica e lunedì, quando si assisteranno alle prime schiarite sui rivieri alpini settentrionali. In tutto l'evento sono attese nevicate mediamente moderate su gran parte dell'arco alpino, con accumuli compresi tra i 20 e i 40 centimetri di nuove fresche. Nel momento che la situazione meteorologica nel fine settimana avvolge il brutto, si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito di Arpa Piemonte e di Regione Piemonte e sulla app di MeteoVento. Buon fine settimana! Grazie a tutti!